Siamo qui con il patron Carmelo Lavol Allora un 2-1 esterno su un campo che non era proprio così semplice visto che l'Erchie aveva bisogno di punti per salvarci Un 2-1 con un secondo tempo controllato e comunque rimaniamo in zona playoff Che partita è stata? Una partita è bella sofferta, combattuta erano due squadre che volevano vincere assolutamente tutte e due e questi ragazzi e l'Erchie sono stati veramente dal primo all'otto hanno insistito, ci tenevano a non perdere questa partita poi addirittura l'hanno riaperto facendo quel gol le forze si vedevano, erano diverse però onore all'Erchie, è stata una bella partita, bella combattuta Abbiamo sofferto forse anche un po' il caldo evidentemente il pomeriggio abbastanza affoso i ragazzi nel secondo tempo hanno tirato un po' il fiato e beh il caldo sicuramente ha fatto la sua parte l'altra parte ha fatto il campo che non siamo abituati a giocare in questi campi in difficoltà siamo andati per il terreno però ne siamo usciti a testa alta e quella è l'importante rimaniamo nella griglia playoff era il minimo che potremmo fare ci siamo quindi ben ben campo perfetto, grazie al patrò grazie a tutti